A dieci giorni usati dal Natale sono in compagnia di Luca, del negozio di Luca e Gloria di Casale e di due consiglieri dell'AKB, Kenzio Bellotti, Franco e Laura, che ci hanno dato una grandissima mano durante questa raccolta di giocattoli. È un'iniziativa che è partita dal sindaco di Omenia, il quale lo ringrazio pubblicamente e che ha visto immediatamente l'adesione di Luca e soprattutto dell'AKB. Questi giocattoli che sono stati raccolti in questi giorni verranno distribuiti tramite Casa Mantegazza, quindi Caritas e San Vincenzo e gli assistenti sociali del CIS ai bambini bisognosi della nostra zona e purtroppo mi spiace dirlo sono tanti. Quindi la cosa più bella è che questo Natale questi bambini avranno un dono, tutto per loro, questo dono è stato il frutto di una raccolta di fogli pubblicizzate da tanti e soprattutto anche dell'aiuto che Luca ha voluto mettere personalmente perché alcuni giochi e la carta sono stati donati da lui in quanto ha voluto far sì che nessun bambino potesse rimanere senza. Quindi veramente mi auguro che sarà un Natale speciale per tutti loro. Sarebbe piacere a far parte di queste iniziative anche perché soprattutto in questi periodi cercare di stare vicino a chi è in difficoltà è una cosa molto bella. Con la Chiazza Bellotti già diverse volte abbiamo fatto diverse iniziative, fa piacere perché comunque cercare di aiutare gli altri soprattutto in questi periodi è una cosa bella, per cui aggeriamo sempre con entusiasmo. Anzi vi ringrazio perché mi fanno partecipi delle loro iniziative. Anzi vi ringrazio perché mi fanno partecipi delle loro iniziative,